Chi è che ha fatto questa fiaccola? Noi. Tutti i giovani? Sì, questi ragazzi qua che vede intorno. Il signor ha detto che ora è tutto in mano ai giovani le fiaccole. Sì, 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 è corretto. Bene. Ci stanno dando molto campo libero e noi cerchiamo di sfruttarlo al meglio. Vi divertite? Sì, sì, ci divertiamo e riusciamo a fare tutto sia in sicurezza in tutti i modi. Ci vediamo dopo. Allora dopo. Buon servizio. Praticamente questa è una torcia norvegese e veniva usata anche a sua volta per scaldare i viandanti che venivano in paese. Prima dell'accensione della vera fiaccola veniva accesa questa torcia. Prima dell'acc dramaticazione. Grazie a tutti. È una tradizione che si perde nella notte dei tempi, parliamo del VII-VIII secolo d.C., quindi sono appena 1200 e passa anni che noi viviamo, che la nostra popolazione, la nostra gente vive questa tradizione importantissima che noi ce la portiamo nel sangue veramente. Fin da piccoli noi vediamo queste cataste, sentiamo il rumore del fuoco, ne apprezziamo il calore, le scintille, quindi fanno porte proprio del nostro immaginario. E qualsiasi badengo nel mondo che è lontano sente questa profonda nostalgia di questo luogo che in questi giorni assume un aspetto magico, ma non nel senso come si intende oggi magico, nel senso di una tradizione vera, sentita, nel segno del fuoco che contraddistingue questa terra. Una terra che è legata a un vulcano bellissimo, meraviglioso, il Montamiata, che è un'isola sulla terraferma come l'ha definita padre Balducci e che dentro le sue viscere tiene appunto questo fuoco che alimenta anche le nostre anime, le nostre passioni. Le fiaccole sono questo emblema, rappresentano questa spiritualità profonda di questa comunità legata anche a simbologie del fuoco di tradizione celtica, quindi c'è un misto di tradizione cristiana, profondamente cristiana, perché comunque la festa è della nascita del bambino, Gesù, abbinata a quella che invece è poi la tradizione più laica, diciamo, che è proprio legata alla simbologia del fuoco. Noi come cittadini di Abbadia non potremmo, ripeto, vivere lontano da questo tipo di festività. Ci lega da sempre, anche nei giorni precedenti oggi, a quella che è il rito che si compie questa sera, che è il 24 di dicembre, scusate, che lo viviamo attraverso un allestimento del nostro borgo medievale, che anche questo rappresenta caratteristiche abbastanza uniche, con allestimenti di piccoli presepi, di ambientazioni, di luoghi, ovviamente incorniciati dentro queste altissime catastre che noi chiamiamo fiaccole, ma che chiunque girando dentro il borgo può vedere che sono delle pire altissime fino a 7 metri. Naturalmente intorno ad esse, durante questa notte, verranno allestiti dei canti, canti natalizi tradizionali perché, ripeto, è una festa per famiglia che si vuole mantenere nel solco della tradizione cristiana e che però ha una caratteristica anche particolare. Noi abbiamo dei canti nostri, che appunto chiamiamo pastorelle, che non si sentono, non si trovano in altro luogo e sono delle nene dolcissime che riportano ad ambientazioni e a sensazioni familiari di altri tempi. Quindi noi che siamo così gli ultimi nel tempo, affrontiamo gli anni 2000, ci vogliamo portare dentro questo segno contraddistinto, come ripeto, da oltre 1200 anni, per trasferirlo alle nuove generazioni che lo stanno cogliendo in pieno perché questi giovani sono loro oggi gli artefici di queste monumentali cataste e si danno da fare con un impegno, una dedizione che non si può trovare in altri segni della nostra comunità durante l'anno. Questa è una tradizione ancestrale di grandissimo significato che porta Badia San Salvatore ad essere punto di riferimento, oggi capitale della Toscana, perché l'accensione delle fiaccole dà il senso di festività natalizie che iniziano con il voler bruciare tutto ciò che c'è stato di sbagliato in passato, il voler fare un reset, diremmo oggi davanti a un computer e questo vale per Abbadia, vale per tutta la Toscana. Abbadia è oggi stazione di grande riferimento da un punto di vista sciistico, da un punto di vista turistico, l'abbazia è uno dei luoghi culturali di grande richiamo, il palazzo comunale che abbiamo come riferimento, da cui verrà accesa la prima fiaccola che Fabrizio Tondi, il sindaco, ha giustamente voluto proprio davanti, al centro della vita politica, civile e amministrativa della città, rappresenta in qualche modo anche un elemento di razionalità e di modernizzazione, un palazzo comunale di fine ottocento costruito molto bene per una comunità che aveva allora uno sviluppo industriale dato dalle miniere, conseguentemente oggi anche la sua trasformazione in paese di forte richiamo turistico e culturale è stata un'operazione importante, di buon governo da parte di questa comunità. Il fatto di avere questi riferimenti, i falò, in una zona, in un'area che vedeva l'abbazia dominare un po' tutta la Toscana perché le proprietà dell'abbazia erano non solo nel sud della Toscana, ma le ritroviamo un po' in tutto il nostro territorio, rende questa accensione e le fiaccole il presagio di buon auspicio per il futuro di tutta la nostra regione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.